Ciao, sono il dottore Asado e in questo video parlo della vera storia del barbecue. Se provi a cercare storia del barbecue su internet trovi tanti siti che ripetono un po' tutti la stessa cosa, spesso sembra un po' un coppia in colla e soprattutto spesso è tutto molto incentrato sul barbecue nordamericano. E non so se lo sapevate ma questo canale si chiama Dottore Asado perché io sono dottore di ricerca in storia, non in Asado ovviamente, e quindi non poteva mancare in questo canale un video sulla storia del barbecue. Con il termine barbecue in modo molto generico ci riferiamo alle cotture all'aria aperta, sulla braccia, col carbone, sulla griglia, ma ovviamente ad oggi non è più tanto così perché possiamo anche fare barbecue al chiuso, ci sono anche barbecue a gas, elettrici e tanti dispositivi diversi. E se intendiamo quindi il barbecue in questo senso, allora il barbecue è una cottura, una forma di cottura ancestrale. Già 170.000 anni fa i nostri antenati, i primi Homo sapiens e i Nerdental, cuocevano la carne sulla braccia o sul fuoco e sembra che potrebbe essere addirittura precedente la cottura sulla braccia. Ci sono indizi che suggeriscono che già l'Homo erectus più di 700.000 anni fa cuoceva il cibo sulla braccia, sono stati ritrovati in un sito archeologico datato a quel periodo a nord Israele dei resti di pesce che sembra essere stato cotto ad una temperatura controllata, quindi non era del pesce bruciato, messo proprio sul fuoco. Quindi forse il barbecue è nato addirittura molto molto prima di noi e già l'Homo erectus cucinava sulla braccia tantissimo tempo prima che nascessero i primi Homo sapiens, i primi uomini della nostra specie. Essendo quindi una forma di cottura molto semplice, molto rudimentale, naturalmente è diffusa in tutto il mondo, praticamente tutte le culture al mondo hanno una loro forma di barbecue, di cottura con la braccia. E poi in realtà fino a pochissimo tempo fa tutta la cucina era fatta con la braccia, non solo la bistecca messa su una griglia ma tutto, anche il brodo fatto in una pentola poi si metteva sulla braccia e sul fuoco per scaldarsi. Quindi nella storia non è sempre facile tracciare una divisione tra ciò che possiamo chiamare barbecue è ciò che possiamo chiamare semplicemente cucina. E a questo proposito ad esempio i romani utilizzavano la craticula che era una sorta di griglia barra cucina da campo. E' stata ritrovata una a Pompei, questa è una ricostruzione, e questo lo usavano sia come griglia ma anche per appoggiare le pentole e le padelle e fare diversi tipi di cottura. Una piccola curiosità, secondo la tradizione cristiana San Lorenzo è stato martirizzato nell'anno 258, cotto su una griglia, messo su una griglia sul fuoco e ucciso in questo modo. E infatti spesso viene rappresentato accompagnato di fuoco e griglia. Lo potete vedere su un mosaico nel mausoleo di Galla Placidia a Ravenna, questo d'attorno all'anno 450, e lì vediamo proprio una griglia che sembra quasi quella che potremmo usare noi oggi a casa nostra appoggiata a marterra col fuoco sotto. Un'altra cosa curiosa, e spesso nelle rappresentazioni più tardi le griglie hanno un manico e spesso hanno anche pure un anello. Questo mi fa pensare che nel medioevo usassero queste griglie probabilmente all'interno, all'interno di un focolare, un camino, e avevano un anello per poi poterlo appendere quando non la usavano, se magari usavano altri utensili. E infatti in questo dipinto, fatto attorno al 1500, vediamo una cucina e sopra il focolare vediamo tanti attrezzi diversi, tanti tipi di griglie anche diversi appesi che potevano essere usati per cuocere cibi diversi, come tra l'altro possiamo vedere nelle case antiche, case di campagna ancora oggi in Italia. Quindi la cottura della carne messa su una griglia, sulla braccia, sul fuoco, esiste fin da quando esistono gli uomini, ed ha continuato a esistire lungo tutta la nostra storia. Però adesso arriviamo alla nascita della parola barbecue. Il termine barbecue viene da una parola in una lingua nativa delle isole caraibiche, così questo termine compare per la prima volta nei testi degli spagnoli, gli esploratori spagnoli che andavano verso l'America. Nella sua generale naturale storia della Sindia di Gonzalo Fernandez de Oviedo i Valdés, un esploratore spagnolo che è andato lì, si menziona diverse volte, ma anche in altri documenti dell'epoca, che gli nativi costruivano delle impalcature che chiamavano barbacoa, o forse barbecue nell'eurolingua che poi è stato spagnolizzato come barbacoa, e queste strutture che erano tipo un telaio, un'impalcatura, o una sorta di soppalco, veniva usato per salirci sopra e guardare i campi di mais, per controllare se arrivavano gli uccelli a mangiare il mais. Però chiamavano anche, con lo stesso nome, una struttura probabilmente fatta uguale, su cui cuocevano della carne, cioè erano quattro pali, una specie di soppalco fatto a modo di griglia, di legno appoggiato sopra, ci appoggiavano la carne lì, sotto facevano il fuoco e cuocevano la carne in questo modo. Molti siti internet, soprattutto impuntati sul barbecue americano, cercano di interacciare in questo, il moderno, l'attuale barbecue americano, e spesso dicono che gli spagnoli quando sono arrivati nelle Americhe hanno scoperto questa tecnica di cottura, sono rimasti colpiti, poi l'hanno portato anche verso l'America del Nord. In realtà sono andato a leggere proprio le fonti spagnole, e loro sono sì colpiti ma non dalla tecnica di cottura, che poi conoscevano benissimo perché come avevamo detto si usava in tutto il mondo, in Spagna sapevano fare la carne e la griglia, non è che l'avessero inventata i nativi in America. Gli racconti spagnoli più che altro sono interessati a cosa cuocevano, perché trovano che questi nativi cuocevano sulla griglia le iguane, i lucertoloni, i serpenti, dei cani, e poi varietà di verdure, di frutte che loro non conoscevano. Quindi in realtà gli spagnoli sono più incuriositi da quello che mangiavano che non dalla tecnica. Infatti ad esempio in questo testo di inizio del 1500 dice in un certo punto pranzarono delle galline dei lombi di cervo che sono stati assados in una barbacoa, cioè grigliati, cotti in una barbacoa, que es como en paridas, cioè che è come farli su una griglia. Quindi ovviamente gli spagnoli avevano le paridas e sapevano cos'era una sado, dicono che i nativi a queste griglie le chiamavano barbacoa, che era proprio il nome della struttura su cui cuocevano, ma poi vediamo anche che gli spagnoli chiamano barbacoa anche a ciò che viene cotto, quindi si dice ad esempio mangiarono sette barbacoa di mais, perché erano mais grigliati. Poi arrivarono coloni francesi, coloni inglesi, e l'uso di questo termine si diffuse anche nelle altre lingue e così questo termine barbecue inizia ad usarsi anche in quello che oggi sono gli Stati Uniti. E durante tutto il periodo coloniale e anche fino a 1950 circa, quindi tempi relativamente recenti, negli Stati Uniti facevano queste cotture barbecue, generalmente fatte da cuochi schiavi, quindi cuochi afroamericani, facendo un buco per terra. La tecnica era semplice, un buco per terra, se dovevano cuocere tanti pezzi facevano una trincea, ci mettevano la brace lì sotto, i resoconti dell'epoca dicono che non facevano molto fumo, facevano poco fumo, quindi una cottura alla brace un po' come faremo oggi noi, sopra prendevano dei bastoni di legna verde e appoggiavano sopra questa trincea in modo da formare una sorta di griglia molto rudimentale, e sopra ancora ci appoggiavano i pezzi di carne, spesso pezzi di maiale, che cuocevano molto lentamente, per tante ore, a volte per tutta la notte. Però come vedete si trattava di una cottura diretta, brace direttamente sotto la carne, molto molto simile a ciò che si faceva in Africa, in Argentina, probabilmente in tante altre parti del mondo. Non possiamo scartare che facessero così anche i nostri antinati 100.000 anni fa, perché è una tecnica proprio semplice, semplice, molto rudimentale. Magari negli Stati Uniti avevano sviluppato dei condimenti, delle salse, cose diverse, proprie di quella zona, o del miscuglio di culture che c'era in quella zona, però tecnicamente era super super semplice. Tra l'altro è molto simile a ciò che facevano i nativi in Centro America, nelle isole. Addirittura quello che facevano i nativi era un pochino più evoluto. Faccio una parentesi, esistevano molte tecniche di cottura in Centro America, nelle isole, in Sud America, che venivano fatte sottoterra, proprio con braccia sottoterra e il cibo coperto e interrato. Quindi molti siti fanno il collegamento fra queste tradizioni e il barbecue nordamericano, ma in realtà secondo me sono cose molto diverse. Innanzitutto queste tecniche non venivano chiamate barbecue, venivano chiamate con nomi diversi a seconda delle zone in cui venivano fatte, quelle seppellite, hanno in comune solo che negli Stati Uniti facevano un buco per terra per mettere la braccia, ma non coprivano e cuocevano la carne sottoterra, la carne veniva appoggiata sopra, quindi tecnicamente era come fare una carne alla griglia, cotta molto lentamente. Comunque questo sistema molto semplice di barbecue negli Stati Uniti fu quello che si usò fino al 1950 circa quando iniziano a nascere ristoranti che volevano proporre questo tipo di cottura, ma per farlo a livello professionale hanno iniziato a costruire dei barbecue in muratura. Facevano tipo delle casse di mattoni, ci facevano la braccia dentro, una griglia di metallo appoggiato sopra e ci mettevano la carne su. Barbecue, ancora molto simile a quello che trovi in altre parti del mondo. E soltanto verso la fine degli anni 50, inizio anni 60, quando iniziano a comparire i primi barbecue affumicatori indiretti, col fuoco o la brace, non direttamente sotto la carne, ma ad un'altra parte. Molto probabilmente anche grazie all'influenza di tanti immigrati tedeschi che sono arrivati nel Texas, con tradizioni di affumicatura diverse, perché in Europa, nel nord Europa, l'affumicatura indiretta si usava già da tanto tempo, e quindi hanno iniziato a costruire questi barbecue in cui riuscivano a fare delle cotture indirette. E poi, questo arrivò alle case, ma pensate, i primi barbecue offset, quindi quelli pensati apposta per le cotture indirette, hanno iniziato a produrli soltanto a metà degli anni 80, quindi è una cosa molto nuova. E vi ho raccontato tutto questo perché oggi ci sono molti, soprattutto quelli che fanno gare di barbecue, o fanno corsi di barbecue americano, che seguono proprio quelle tradizioni lì, che dicono, o cercano di distinguere, il barbecue dalla griglia, cioè dicono che barbecue sono quelli con il coperchio, barbecue è la cottura lunga e lenta, indiretta, a basse temperature, invece chiamano griglia o grill, le cotture dirette sul fuoco. Ci può stare se uno è in quel contesto lì e vuole in qualche modo differenziare quei due tipi di cotture che fanno in quella regione lì, io non aderisco per niente a questo, non lo uso, cerco di non usarlo in questo modo, a meno che non abbia bisogno perché parlo con qualcuno che è di quel settore lì, perché uno, siamo in Italia, in italiano la parola barbecue non ha questo significato, non ha questa connotazione, in realtà non ce l'ha neanche nella lingua inglese, perché se cerchi sul dizionario barbecue ti compare questo, ma soprattutto a me non piace perché sembra molto incentrato solo su quello stile di barbecue americano lì, magari si vive in quel contesto, può aver senso, ma noi che siamo in Italia e che abbiamo altre tradizioni, ci sono cotture al barbecue anche italiane e sappiamo che ci sono 40.000 altri stili di barbecue, ridurre tutto solo a quello mi sembra un po' limitante, soprattutto non c'è bisogno, allora dobbiamo inventarci 100.000 altri nomi per tutte le altre tecniche di cottura che sono sempre cotture al barbecue. Quindi sei un amico che è uno di quelle che dice no, quello non è un barbecue, i barbecue sono quelli col coperchio, se no è una griglia. Diteli di andare a fa... Diteli di guardare questo video e potete anche dirle che la parola barbecue non l'hanno inventata gli americani, il barbecue non l'hanno inventata gli americani, loro hanno inventato uno stile del barbecue nelle loro tradizioni, che va benissimo, a me piace anche tanto, ma sappiamo che ce ne sono 40.000 altre varianti e la parola in realtà viene usata in tutte le lingue che viene usata in un modo molto più ampio e molto più genelico. Se ti è piaciuto il video, lascia un mi piace, scrivi qualcosa nei commenti. Questo è tutto, grazie, ciao ciao!